Il figlio dell'uomo è venuto per servire e darà la propria vita in riscatto per molti. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi, e con il suo Signore, dal Vangelo secondo l'uomo. In quel tempo, nacque una discussione tra i discimoli, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro, «Chi accoglierà questo bambino di mia nome, accogli a me, e chi accoglie a me, accogli colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande». Giovanni prese la parola al cielo, «Maestri, abbiamo visto uno che scacciava dei molini al tuo nome, e glielo abbiamo impedito, perché non ti segui insieme a noi». «Ma Gesù mi rispose, non l'obbedite, perché chi è contro di voi, è per voi». Parola del Signore. Grazie a tutti. Grazie.